L'emergenza negli ospedali dell'agro sarnese Nocerino si tocca con mano e si vede ad ogni angolo i presidi ospedalieri. Sono ormai al collasso un po' ovunque, tra posti letto che mancano per i ricoveri, carenza di personale che si porta avanti ormai da anni, manca il personale medico ed il personale infermieristico. Barella nei corridoi del pronto soccorso e dei reparti con pazienti in attesa per ore, così è accaduto al martiri del Villa Malta qualche settimana fa e così all'Umberto I di Nocere Inferiore pochi giorni fa, emergenze che si fanno fatica a fronteggiare seppur con grande sacrificio di tutti. La situazione è ormai fuori controllo da tempo, le richieste per avere personale in supporto sono accolte ed ascoltate dai vertici dell'Asel, ma è vero che si fa fatica a coprire le unità che mancano nei presidi perché sono tante. La vera urgenza è dare equilibrio e pronto soccorso, solo questo riporterà stabilità a tutti i reparti e le divisioni. L'appello è dunque ai vertici dell'azienda sanitaria sicuramente, ma ancora di più alla regione Campania. E non si contano le aggressioni al personale ospedaliero proprio della rete di emergenza urgenza. È accaduto a Sarno pochi giorni fa, quando una donna ha dato in escandescenza fino a danneggiare la porta d'ingresso del triage. Dunque, anche la sicurezza resta una reale emergenza da dover affrontare, magari con il drappello di polizia, così come richiesto più volte.